Musica Volevo presentarvi invece un nostro ospite gradito, la prima volta che viene a Roma 1, ma vedrete che ci darà degli spunti interessanti, oltre che, io dico da un certo punto di vista quasi stupefacenti. Voglio presentarvi Paolo Celli, chef, benvenuto. Buongiorno, grazie. Leggo dal suo curriculum rapidamente, lei ha lavorato tantissimo per i divi del cinema e dello spettacolo. Leggo solo qualche nome, Fran Sinatra, Ava Garner, Mia Farrow, Charles Bronson, Paul Newman, quindi praticamente le stelle di Hollywood di prima grandezza, Michael Caine, oltre quelli italiani ovviamente. Lei ha attraversato la storia del cinema ai fornelli. Partendo, stiamo vedendo qualche titolo di rivista, di giornale, partendo negli anni 50 da un ristorante di Torino al quale si presenta poco più con il ragazzino, insomma. Ci avevo 12 anni, appena fatto la quinta elementare e subito mi misero su un camion che trasportava la farina dalla Toscana, perché io sono toscano di Monte Carlo, provincia di Lucca. Lucchese. Sì, lucchese sono, sì. E mi portarono da Torino a questo ristorante che era una paesana nostra a lavare i piatti. All'epoca, ecco, il cuoco non era una professione da star come adesso. No, no, non è come adesso all'epoca. Il cuoco era, anzi come il muratore, come l'idraulico, non veniva proprio. E come mai, diciamo, il cucinare catturò la sua attenzione? Eh, perché ho sempre avuto, diciamo, questa passione, un po' quando andavo dalle suore. È stata pure una suora, suor Elena, che quando andavo a fare gli elementari, le suore mi portavano sempre dietro in cucina, mi insegnavano. Mia madre era uguale, anche lei era un appassionata. Poi avevo mio zio, il fratello di mio padre, che era un grande cuoco sulle navi. È stata un po' la passione, un po'... e da lì ho iniziato, diciamo, la mia carriera. E l'incontro col cinema com'è avvenuto? L'incontro col cinema è avvenuto dopo, prima da Torino, sono passato a Roma nel 1956. A Roma ho iniziato a fare i fotoromanzi, sul lancio Grand Hotel, poi ho iniziato le prime apparizioni in televisione. Perché non tutti sanno che, diciamo, la troupe cinematografica ha anche il cuoco al seguito. No. E ci aveva... Di solito no, di solito. Però era un modo per entrare nel cinema, diciamo, anche come cuoco. Quello è venuto dopo. E poi ho iniziato a fare le prime comparze in televisione, insieme con Giuliano Gemma, in Benuri, in Quovatis. E poi la grande partenza per la medica, quella è stata quando ci avevo... Era nel 68. Nel 68 fui chiamato prima da Brigitte Bardot a Stade, in Svizzera, a cucinare per lei. Poi da lì venne il segretario di Onassis e mi fece la proposta. Mi disse, c'è Onassis che ti vuole sulla sua piccola barca, come... Ecco, vediamo Onassis, c'è un articolo di giornale con la sua barchetta, diciamo, immagino. Sì, ecco, quello ero io all'epoca, senza la barba, i giovani così. Ecco, frequentare il jet set dell'epoca, no? Da cuoco com'era? Cioè quali erano i piatti che gli chiedevano più frequentemente? La vera cucina italiana, la vera cucina, cioè la matriciana, le penne all'arabbiata, caccia e pepe. Un po' con nostalgia, perché? Qual è il rischio che si è persa un po' questo? Il rischio che si è persa la vera cucina italiana oggi. Oggi non c'è più niente di italiana. Oggi questi cuochi fanno la pasta e fagioli con le cozze, con le vongole, con i frutti di mare, diciamo, con altre cose, con i polpi. La vera cucina italiana, la vera pasta e fagioli, è buona, soltanto fatta con i fagioli bianchi o fagioli cannellini, con sopra un goccetto d'olio, in fondo, quella è la vera cucina italiana. Qualcuno sicuramente a quest'ora starà preparando e quindi starà ascoltando questa sua battaglia in favore dei prodotti semplici, diciamo così, della nostra tradizione. Naturalmente, io infatti mi sono sempre battuto per questo, non la devono rovinare, perché la cucina italiana è la migliore nel mondo. Io ho fatto mangiare la coda alla vaccinata, l'estero. Ecco, ci racconti questo aneddoto, insomma. Lei già sapeva cosa mangiava? Sì, sì, no, non sapevo, era negli anni Sessanta, c'era un regista americano qui a Roma che girava il film L'Assassino di Troschi, era Giuseppe Losi, questo grande regista, e mi propose di andare a cucinare per lui, diciamo, nel tempo che stava qui a Roma, in via della vetrina, vicino a Piazza Navona, e io accettai. Ci stiedi quasi per sei mesi, e lì c'era un passaggio, è venuto, diciamo, Ritchie and Barton, come no, la principessa Sissi, Romy Snyder, Anthony Quinn, tutti venivano lì. E lui mi disse, Paolo, fagli assaggiare le specialità di Roma, perché qui siamo a Roma. E quindi la coda? Certo, la coda la vaccinata, diciamo, regatoni con la pagliata. Risultato? Il risultato è stato, le prime volte erano un po' scorbutiche, perché quando hanno saputo, io mi ricordo ancora che la Taylor, con questi pezzi di coda che si sporcava tutte le mani, ha detto, Paolo, ma però ci sporchiamo le mani, perché non me le fai pezzettini? E io allora gli avevo feci pezzettini, ma il risultato fu, c'era poca carne, perché la coda è tuttosso, e poi disse, ma sai che è buona questa carne? Però non l'ho mai mangiata così con l'osso, ma che carne è? E questa è la coda, questa è la coda, la coda, disse, la coda della vata. Poi l'Isterio si è arrabbiata, era abbastanza, diciamo, pericolosa. Si arrabbiò moltissimo, scattò in piedi, mi hai fatto mangiare la coda. Allora intervenne il regista, Giuseppe Lossi, e gli disse, guarda che questo è il classico piatto caratteristico romano, la coda l'ha vaccinata, e ha dovuto portarla nei ristoranti, diciamo, dove facevano la specialità romana, per fargliela sentire, perché lei ancora non ci credeva. Ma Paolo Celli, ha dovuto lei, diciamo, affrontare capricci di qualche altra star? Capricci gastronomici? Ma quelli, ma quelli un po' di tutti. C'era il marito, diciamo, della Taylor, Richard Barton, che lei disse, Paolo, mi raccomando, non mettere sale sulla carne, perché lui soffre di pressione. Però lui, questa carne, non la mangiava, perché era sciava, non sapeva di niente. Allora, dopo qualche giorno che stava lì, io chiamai lui da una parte, e disse, senta, signor Barton, se vuole, senza dire niente alla signora, altrimenti si arrabbia, io il sale glielo metto sotto, glielo metto sotto, non dal lato dove, perché ogni piatto che portava a tavola, lei ci metteva il dito, faceva così, e sentiva, noi... Quindi controllava... Controllava, sì, veramente. Noi la possiamo solo che fregare in questa maniera. Non l'ha mai saputo, credo. Non l'ha mai saputo, non l'ha mai saputo, Guido. E ci aveva l'abitudine anche da bere qualche grappino a lui, però lei naturalmente non voleva, perché lui era quasi sempre ubriaco, e poi gli faceva male, diciamo, la grappa. E io scocito il sistema da metterglielo nella bottiglia dell'acqua minerale, io... La grappa? La grappa, perché era bianca, era, diciamo... Non sapeva, ma sono dei trucchi del mestiere che hai imparato ovviamente frequentando questo ambiente. A casa Sinatra come si mangiava? A casa Sinatra si mangiava italiano, esclusivamente italiano, perché già lui lo conoscevo da Roma nel 1158, la prima volta. E lui faceva le trenette al pesto e la pasta con le sarde, perché i suoi genitori erano italiani. Siciliani. Siciliani e di Genova. E poi lui mangiava delle sontuose bistecca alla fiorentina, fatta la brace, perché nel giardino, che era grande come Villa Borghese, per modo di dire, c'aveva questo grande barbecue dove si faceva la carne. Però la carne, il suo cuoco, la cucinava cottissima e poi con tutte quelle salse sopra, la rovinava, possiamo dirlo. La rovinava. Infatti, guarda, la vera carne, la vera bistecca va fatta così, va fatta da condire, va fatta di un chilo, un chilo e duecento, bella, che deve diventare di fuori arrostita, ma dentro al sangue. Poi, condita, il sale va messo dopo, il sale grosso, poi, pestato con la bottiglia, affinato, dopo la cottura, e il pepe macinato al momento, e un goccetto d'olio, con i fagioli di rigore, i fagioli al fiasco, che venivano cotti in una pentola di coccio. Immaginiamo il risultato. Il risultato era. Tra poco ci sarà la notte degli Oscar, facciamo gli auguri a Sorrentino, intanto per la grande bellezza, perché, insomma, potrebbe raccogliere qualche premio. Passando dalle star americane a quelle italiane, che differenza troviamo? Insomma, dovrebbe essere più facile cucinare per le star italiane. Sì, sì. Beh, diciamo, le star italiane, anche loro avevano la sua esigenza. Andavano cercando la maggior parte dei piatti particolari, anche loro, perché erano i primi anni 60, allora volevano le penne con la vogda, volevano le scaloppine al marzala. Quindi le variazioni sul tema. Sì, le variazioni sul tema. Ma io però insistevo sempre, dicendo, no, facciamo la cucina italiana, che è la più buona, diciamo. Tra, diciamo, i tanti film che lei ha collaborato, sicuramente quelli in costume, quelli che Roma una volta produceva in grandissimo numero, Nerone, ne ricordo qualcuno, credo che abbia collaborato. Ben Hur, sì. Esatto. Anche Silverse Stallone è stato tra, diciamo così, le star che ha lavorato? Sì. Rambo. Silverse Stallone, come no? Diamo, lui veniva sempre a mangiare quando stavo da Friends for Coppola. Negli anni 70 io stavo a Napp Valley, in California, e lì venivano tutti quanti, perché Coppola da Roma mi portò... Ecco, vedete la foto proprio con Coppola. Sì, lui era un amico perché veniva sempre a mangiare al mio ristorante, ma quello dopo che io avevo già aperto il ristorante a Roma, a Trastevere. Ma negli anni 60 ho lavorato per lui quando faceva il padrino, il padrino numero uno, perché lui disse Paolo ti devo lasciare perché mi hanno chiamato da Los Angeles a girare un film italiano, il padrino, cavolo, cavolo, disse io, vengo anch'io allora, vengo con te, non voglio niente, non pretendo stipendere niente. Voglio essere solo presente. Sì, perché lui ancora non era famoso, conosciuto, capito? E lì naturalmente ho conosciuto tutta Hollywood. Marlon Brando compreso. Marlon Brando c'era il film, tutti. Anthony Queen, tutti. Chi era il più difficile dal punto di vista dei gusti? Al Pacino, al Pacino era all'inizio però era il più difficile, era il più scorbutico, mentre quell'altro magari venivano in cucina, ringraziavano, grazie Paolo, that was very good, very nice, diceva, capito, mi davano la mano qui sulle spalle. Lui è sempre stato un po' alla lontana, alla lontana. È stato freddo, diciamo. È stato freddo, è stato, sì, mentre invece Marlon Brandi lui, era un buon accione, la sera spesso e volentieri mi chiamavano andiamo insieme, andiamo a mangiare al ristorante, andiamo così. Beh, insomma, le cose come vedete Paolo Celli ne ha tantissime da raccontare. Sì. E questo, voglio dire, molte di più di quelli che adesso in televisione fanno le star, gli chef. Che ne pensa di questa ondata di addirittura reality o comunque programmi sulla cucina? Ma oggi sono tutti i chef, oggi, diciamo, sono tutti i chef. Oggi è bello, sì, però sono troppi, troppi, troppi. Oggi pure il cane fa il cuoco oggi. Quali sono gli errori che lei vede più frequentemente in televisione? Gli errori sono che di cucina italiana c'è rimasto ben poco. Io non capisco perché la televisione va cercando tutti questi cuochi che fanno la cucina italiana un po' stroppiata, come si dice a Roma. Ce ne vorrebbe una che fa proprio la cucina povera italiana, che iniziassero dalla matriciana, carbonara, agli olio e peperoncino, dalla ribollita. Dalle basi. Dalle basi. Quella è la vera cucina. Quella è la vera cucina. Io infatti adesso sto segnando dalle suore, che fra l'altro mi sento bene con loro. Mi sento come se fossi il Dio. Quando mi chiamano maestro, con dodici suori vicino davanti a me, mi sembrano dodici apostoli. Quali sono i prodotti che danno più soddisfazione in cucina, secondo lei? In cucina sia il pesce sia la carne, ma direi anche un buon risotto, un buon risotto con funghi, buonissimo, spaghitta da pescatora, con tutti i frutti di mare, poi un bello spezzatino con piselli, una bella cotoletta alla milanese. Quindi sono i piatti che possiamo fare anche a casa? Come no? Possiamo fare benissimo a casa. Anzi, sono i più buoni e i meno costosi. Ecco, non è necessario, ultimamente vale un po' la moda per la quale poi il piatto è anche un assaggino. È un assaggino, non è una porzione. Una porzione di pasta sono 140 grammi, almeno si porta un bel piatto. E chi sta a dieta? Chi sta a dieta purtroppo va male, deve mangiare soltanto come la bardotte. Lei mangiava soltanto l'insalata di cetrioli, mele, yogurt, questa roba qui. Era difficile che chiedeva la pasta, giusto per gli ospiti. È mai capitato di innamorarsi di una di queste star? Questa è una domanda, è una domanda, diciamo, un po'. Certamente, però non si poteva. Il cuoco all'epoca non poteva fare niente. Non poteva, anche se i giornali mi hanno attribuito un flirt con la bellissima Brigitte Bardotte, che fra l'altro quello mi è costato il divorzio, fra l'altro, perché mi hanno pizzicato con la Bardotte, abbracciato, diciamo, mano in mano al Piper negli anni Sessanta. Beh, insomma, quando Roma aveva una vita notturna degna da nome. Sì, quando Roma aveva una vita notturna, capito, poi dopo con altre famose altrici, con la Cardinale, però ero soltanto un amico, diciamo, ero il suo cuoco personale, anche se non portavo la divisa, io non ho mai portato la divisa, ero come supervisore. Ha conosciuto anche Ursula Andres? Sì, certamente l'ho conosciuta. Lei era brava, l'ho conosciuta, venne a mangiare una volta quando stavo a Ischia da un regista americano, Conrad Rooks, venne insieme con 007, con Sean Connery, venne insieme. La coppia proprio, diciamo, cinematografica per Antonomasia, certo. Sì, negli anni Settanta, quando era, diciamo, anche tuttora, è una bella donna, diciamo. Certo che l'ho conosciuta, l'ho cucinato moltissime volte. Dal punto di vista del CEC, questo dibattito sui prodotti, da usare, che dice che devono essere biologicamente, comunque allevati biologicamente, chi no. Insomma, la spesa si può fare al mercato per fare un buon piatto? Sì, la spesa la possiamo fare. Basta stare attenti, basta stare attenti alla roba. Quello che oggi, magari, la roba biologica, se la fanno pagare molto cara. Vale la pena? Vale la pena, però ne vale... Sì, dalle uova all'insalata, naturalmente, sempre se la roba è originale. Bisogna vedere se la roba è quella, perché magari la vendono per biologica e poi magari... Non lo è. Non lo è, capito? Bisogna stare attenti. Il consiglio sarebbe da farla sul terrazzo o se uno ha un piccolo orticello. Perché? se la fa da sola. Quindi è sicuro. Come faccio io, me la faccio da solo. Sì, sì. Noi viviamo in un paese dove ogni regione ha decine di piatti, diciamo così, importanti e tradizionali. Qual è la regione che dà più soddisfazioni dal punto di vista gastronomico? Ma io penso la Toscana, essendo Toscano... Ma è Toscano, quindi si gioca in casa. Sì, c'è una bella ribollita, quella è buona, una bella polenta con funghi, il farro, pure buono, dopo una bella bistecca fiorentina, la tagliata, il coniglio fritto, oppure la cucina romana, la cucina romana, è romana, un bel piatto di regatoni e cacio e pepe, una bella matriciana. Ultimamente sono andato in Russia a fare la scuola di cucina italiana. In Siberia. In Siberia, a Krasnov, 45 gradi sotto zero era, mamma mia, una cosa... Però lì non si trovano prodotti italiani, l'olio non si adopera, era pochissimo, c'erano tutta roba scadente, quando facevo la matriciana per 50 persone che ci ho messo mezzo litro d'olio, ma come l'olio così? Guai, perché lì l'olio è caro arrabbiato, lì la facevano col burro, ho fatto, no, la matriciana va fatta... C'era con l'olio. Sì, va fatta con l'olio e sono rimasti tutti contenti. Senta, qual è la prima virtù di un cuoco bravo? È prima di tutti avere passione, avere passione e amare la cucina come amare una donna. È lo stesso, cioè l'amore della cucina è come l'amore di una donna. Se uno deve stare con una donna e non la ama o deve stare in cucina, lo fa perché è forzato, allora la cucina non verrà mai fatta. Deve piacere, ti devi inventare dei piatti, dei piatti magari che, diciamo, non conosci, fare dei esperimenti e adoperare l'olio extravergine d'oliva, quello vero, e prodotti primari. Questo è il segreto vero? Quello è il segreto se si vuole fare la cucina, come io dico sempre quando vado a fare scuola di cucina, prima di tutti, la base essenziale è quella. Ma cosa cercano i ragazzi? diciamo un lavoro rapido che faccia guadagnare se va a insegnare? Cercano quelli loro, cercano, cercano magari roba più, diciamo, alla portata di mano, più, loro sono abituati con gli hamburger, sono abituati con questa roba di battaglia, non conoscano, oggi il ragazzo di 15 anni non conosce la vera cucina italiana, sono abituati a questa roba qui già pronta. Che ne dice dei piatti della Nomelle Cuisine, quella diciamo che va più in voga, che accostano sapori molto distanti tra loro, direi io, rispetto almeno alla tradizione? Sì, ma per me ci faccio una croce, proprio le ho bocciate, da 1 a 10, 0, proprio, no, 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 bisogna tornare indietro, tanto prima o poi ci si ritorna indietro, prima o poi, siamo già sulla strada, siamo. Prima di chiudere, insomma, le star di Hollywood hanno comunque, le hanno comunque dato tanto, anche dal punto di vista umano, ne ha conosciute diverse, non è vero che sono tutti bizzosi? No, 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 sì, c'è quello capriccioso, c'è quello magari, però, forse perché era un'antrepoca, c'era più umanità, loro venivano in cucina, ci si parlava, delle volte quando loro erano soli a casa, ti facevano accomodare vicino a lui, dai Paolo, stai qui, mangia con noi, mangia, certamente io mi sentivo un po', leggermente a disagio, mangiare insieme a Franzinatra, insomma, ce l'hai davanti, sentire che provava delle canzoni in diretta davanti a me, certo, non male, oppure Francis Ford Coppola, diciamo, capito, non è, non è da tutti i giorni, non è, uno cercava sempre, sì, è un amico, però, all'epoca tu eri, eri sempre un suo servitore, diciamo, c'era un certo timore, insomma. Paolo, sta aspettando qualche ingaggio per fare lo chef in televisione? Sì, adesso dovrei fare per la TV russa, hanno commissionato una serie di quattro puntate sull'Italia, sulla cucina italiana, che si intitola Italia, cucina, musica, cucina, musica e cucina, musica, probabilmente cultura. Sì, cucina, musica e cultura, sì. Come mai? Garibaldi, è Garibaldi. Lei parla comunque dell'estero e di come è apprezzata anche la nostra cultura gastronomica, no? Quindi all'estero ancora godiamo di una buona immagine? Sì, sì, quello che mi va aggiungere a me è che io sono più conosciuto all'estero che in Italia. Cioè io non capisco, quando in Italia abbiamo delle persone, dei pezzi rari, cioè perché io penso di essere un pezzo raro, cioè, questo curriculum sicuramente, non voglio vantarmi, ma è un curriculum, cioè che non c'ha nessun cuoco, che non c'ha nessuno, non capisco, perché insistano a mandare avanti questi, capito, che non sia riconosciuto. sono l'unico testimone che posso testimoniare, che ne so, Richard Burton, quello che mangiava, e gli attori che adesso stanno in paradiso da 40 anni, da 40 anni, io le posso testimoniare, posso, i vizi che ci avevano, i vizietti, le cose belle, le cose brutte, diciamo, l'umanità anche delle stare all'unico. L'umanità, sì, mentre invece oggi no, oggi tutte quante con le ricette, con le cose, vanno avanti così, vanno avanti, però non c'hanno niente da raccontare, io c'ho tanto da raccontare, di anedoti, solo ci vorrebbe un mese intero di trasmissioni, tutti i giorni, allora... Potremmo farne qualcuna, vediamo, insomma, io ringrazio Paolo Celli, il curriculum è veramente... Grazie a voi, a tutti quanti. Abbiamo raccontato solo qualcuno di questi aneddoti, di questi incontri che ha avuto Celli, da italiano emigrato per lavoro, si può dire? Sì, per lavoro, per lavoro, infatti tuttora, anche se ho 75 anni, non mi arrendo, non mi arrendo, perché ancora c'ho tanto da dare, ancora dentro mi sento giovane, e voglio che l'Italia, che la cucina italiana, vada avanti bene ancora, insomma, che non venga trascurata, perché veramente in Italia, ci abbiamo tante cose belle, senza andare a cercare dell'altra parte. E quindi ci abbiamo anche, soprattutto i prodotti che insomma, ancora sono... I prodotti che loro non c'hanno, che loro non c'hanno, che loro, vino, pane, carne, tutto, tutto, tutto. Allora, voglio ringraziare Paolo Celli, grazie a voi tutti, ci fermiamo per qualche istante, e poi torniamo in studio con le notizie. Grazie per l'invito. A presto.